Per i trovati con le informazioni meteo in collaborazione con il centro funzionale della protezione civile della regione Campania, correnti umide in quota dai quadranti occidentali favoriscono un graduale aumento della nuvolosità sulle regioni centro-meridionali e precipitazioni dalla sera sul versante terrenico. Domani le temperature tenderanno a aumentare e i locali precipitazioni insisteranno prevalentemente al centro-sud. Queste nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani giovedì 13 dicembre in Campania. Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di solato rovescio. Le precipitazioni risulteranno nevose durante la notte a quote superiore ai 700-800 metri soprattutto sul settore interno. I venti ispireranno deboli orientali con locali rinforzi e con tendenza a disporsi da ovest nel corso della mattinata. Il mare sarà prevalentemente mosso. Le temperature aumenteranno in particolare nei valori massimi. Gelate notturne e al primo mattino tenderanno a formarsi a quote superiore agli 800 metri. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose. Ed è tutto, grazie per la cortesia e attenzione.